Risotto al radicchio rosso. Se siete amanti dei sapori autunnali e desiderate provare una ricetta dal gusto intenso, il risotto al radicchio rosso è quello che fa per voi. Il radicchio, oltre a essere un alimento ricco di proprietà nutritive, regala ai piatti un sapore deciso e inconfondibile. Preparare questo risotto non è difficile, ma richiede un po' di tempo. Seguite gli step e portate in tavola una pietanza che soddisfi anche i palati più esigenti. 400 g di riso carnaroli. Un cespo di radicchio rosso. Un cipolla. Un bicchiere di vino bianco. Due cucchiai di burro. Un cucchiaio di parmigiano reggiano. Brodo vegetale. Olio extravergine di oliva. Sale. Prendete una pentola, versate un filo d'olio e fate soffriggere la cipolla tritata. Aggiungete il radicchio tagliato a listarelle e fate insaporire, sfumate con il vino bianco. Aggiungete il riso e fatelo tostare. Iniziate a bagnare il riso con il brodo vegetale bollente, mescolando con un cucchiaio di legno. Quando il risotto inizia a ritirarsi aggiungete il burro e il parmigiano, mescolate e assaggiate. Se necessario correggete di sale. Portate il risotto al radicchio rosso in tavola ben caldo e servitelo con del parmigiano a parte. Buon appetito!